Neanche in zone ad alta intensità di traffico si raggiunge una tale tossicità e quanto dichiarato dagli esperti dell'ARPA dopo le analisi sui vincensi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Taranto. Sono circa 2.600.000 i bastoncini profumati tolti dal mercato grazie all'ultima operazione della finanza e degli uomini della Dogana al porto di Taranto. Sono profumatori d'ambiente ritenuti altamente nocivi per la salute pubblica, sbalorditivi e soprattutto inquietanti i risultati delle analisi. La presenza di benzene e toluene sostanze tossiche e cancerogene supera i limiti consentiti addirittura del 1.000-1.800%. Tra le tipologie di campioni analizzate, i profumatori opium, cannabis e camomilla sono stati fatti bruciare in una stanza chiusa per circa un'ora. Scioccante la concentrazione di benzene nell'area della stanza. Sì, altamente nocivo, siamo rimasti sorpresi anche noi dai risultati dell'ARPA che hanno trovato una concentrazione, ad esempio, di benzene decine volte superiore a quella consentita. Nessuna indicazione inoltre sulle confezioni degli incensi riguardo alla modalità d'uso. I bastoncini sono utilizzabili solo in ambienti aperti, ma questo non è stato specificato. Il valore commerciale della merce si aggira intorno al milione di euro. Due i container bloccati, provenienti dall'India e destinati proprio alla provincia ionica, a due aziende del Tarantino, ai due magazzini e alla finanza a posto i sigilli, ha denunciato i titolari sia della ditta di import che di quella di commercializzazione del prodotto. Un'operazione da record, insomma, che ha un precedente solo nel sequestro di Genova di pochi mesi fa. Dà più soddisfazioni effettuare un sequestro di una frode contro la salute dei cittadini rispetto ad uno sulla fiscalità, perché in effetti se questi incensi fossero stati accesi avrebbero provocato dei danni alla salute dei cittadini enormi. Stiamo parlando di un sequestro enorme, due milioni e mezzo di pezzi, il più grande sequestro mai fatto in Italia di incensi, che presentavano una percentuale esagerata di benzene. Si pensi che nel pieno centro cittadino la percentuale di benzene è massima e 5 microgrammi a metro cubo. In questo caso il benzene presente in questi incensi era pari a 90 microgrammi a metro cubo. Quindi pensate un po' cosa sarebbe successo se si fossero inalati questi fumi.